Perché? Ah, chi ha parlato? Ma che problemi hai? Ma io? Non ho detto niente a dire il vero, ha fatto tutto... Ti è andato male qualcosa? È andata male l'interrogazione? Ma non vado a scuola da una vita, son ragionieri. Ti ha lasciato il fidanzato da quarantena? Ecco, questo è brutto. Ma io sto con la pina, non so... Mollare la ragazza o il ragazzo durante la quarantena è veramente una cosa un po' infame. Ma è normale...